Signori buongiorno, eccoci siamo arrivati all'Aigueglia da Bagni Pino, da Claudio, il mio carissimo amico e adesso ecco la sua bellissima spiaggia spero di non inciamparmi, non ammazzarmi, però eccoci uno spettacolo siamo in tropici ed eccolo qui, ciao Claudio, numero uno sempre guarda chi trovo qui, mi vedo, chi sono queste? se eravate già qua, voi fate parte del posto? no? salute a tutti, salute a tutti d'Aigueglia, salute a tutti d'Aigueglia, ciao 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 come faccio stay tuned ciao ここ tommi che è un amore non Siamo arrivati a tutti i nostri amici. Siamo iniziando a fare un'occhiata per fare un'occhiata per fare un'occhiata per fare un'occhiata. E' un po' di più. a 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